Si è chiuso il processo del primo troncone dell'operazione Beige sui casi di assenteismo del personale dipendente di Palazzo Longano. Il giudice monocratico del Tribunale di Barcellona Maria Celia ha condannato per il reato di truffa aggravata e continuata Maria Tindara San Giovanni ad un anno e sei mesi di reclusione e 500 euro di multa, Salvatore Bellinvia a due anni e sei mesi di reclusione e 800 euro di multa, Maria Rosa Milone a due anni di reclusione e 600 euro di multa, poi Grazia Marullo, Patrizia Passeri e Santa Bucca a quattro mesi di reclusione e 200 euro di multa ciascuno, Giuseppe Cutugno a sei mesi di reclusione e 300 euro di multa, Giuseppe Nobile ad un anno di reclusione e 300 euro di multa, Oreste Zocco per gli allontanamenti verificatisi il 3 gennaio e l'11 marzo 2008 ad un anno di reclusione e 300 euro di multa e infine Antonino Calabroa a due anni di reclusione e 300 euro di multa. San Giovanni, Bellinvia, Milone, Marullo, Cutugno, Passeri, Bucca, Nobile, Zocco e Calabroa sono stati condannati inoltre al pagamento delle spese processuali a favore dell'erario e a risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede le spese processuali per 5.000 euro a favore della parte civile il comune di Barcellona costituitosi con l'avvocato Filippo Barbera. E' stato riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena a San Giovanni, Milone, Marullo, Cutugno, Passeri, Bucca, Nobile, Zocco e Calabroa limitatamente per Milone e Calabroa alla pena detentiva. Assolti perché il fatto non sussiste Santi Pino, Maria Catena Lamalfa, Norma Patrizia Salvadore, Sebastiana Caliri e Lucia Providenti Parisi e anche Oreste Zocco ma per circostanze diverse da quelle per le quali è stato condannato. Hanno difeso gli avvocati Gaetano Pino, Tommaso Calderone, Francesco e Sergio Russo, Giovanni Munafò, Francesco Aurelio Chillemi, Sebastiano Campanella, Tiziana Rotondo, Carmelo Mobilia e Benedetto Calpona. Di questo primo troncone faceva parte anche Francesco Miano la cui posizione era stata stralciata ed era stato assolto ma la sentenza è stata impugnata in appello dalla procura di Barcellona. Il PM Fabio Sozio aveva richiesto 14 condanne, una sola richiesta di assoluzione per l'impiegata Maria Catena Lamalfa, una richiesta che è stata accolta dal giudice in sentenza.